I giovani hanno delle passioni, la differenza è che, a differenza della nostra, loro, come dire, gli obiettivi ce l'hanno e tutto, ma non hanno appoggi, noi non li abbiamo aiutati. Sono innamorato di questo film e amo questo film, mi ha emozionato e ho anche sorriso, cosa che non faccio tra l'altro mai quando mi vedo e lo trovo un film struggente, un film che mi ha nel finale poi emozionato ed sono orgoglioso perché appartengo a un film che ha secondo me un segno diverso, una prova diversa, sempre grazie a quell'uomo fantastico che risponde al nome di Amelio Gianni.